Buonasera e benvenuti all'appuntamento con informazione in questa seconda edizione del telegiornale che va in onda in forma ridotta e senza servizi audio e video per uno stato di agitazione del personale tecnici e giornalisti. Chi legge è stato autorizzato dal comitato di redazione. Una situazione finanziaria ancora difficile ma in netto miglioramento rispetto al passato che consente di guardare al futuro con più ottimismo è la situazione della Ruzzo Reti grazie ad un quadro economico in parte mutato e alla fiducia accordata dai sindaci al nuovo consiglio d'amministrazione. Lo ha dichiarato il presidente Antonio Forlini che questa mattina ha incontrato la stampa. La Ruzzo Reti SPA ha detto può porsi ora obiettivi non più legati solo all'emergenza. Forlini è stato confermato alla guida della città per il prossimo triennio e insieme a lui ci sono anche i nuovi componenti del CDA nelle persone di Alessia Cognitti e Alfredo Grotta. Tra i principali progetti che l'acquedotto Teramano avvierà nei prossimi mesi ci sono la costituzione di una task force per il recupero e la gestione dei crediti, l'avvio di un progetto di sfruttamento idroelettrico e la revisione del sistema informativo per migliorare sempre di più i servizi all'utente. Dall'analisi del bilancio di esercizio come l'ha illustrato il presidente della Ruzzo Reti approvato venerdì scorso dall'Assemblea dei Socii si evince una perdita di esercizio pari a 750.777 euro, pari dunque a circa un quinto di quella registrata nel 2014 che lo ricordiamo ammontava a 3.750.975 euro. Aumentano tuttavia i crediti verso i clienti che in questo momento sono 28.353.000 euro con un incremento di 3.145.000 euro rispetto al 2014, somme che non vengono riscosse e che con il tempo diventa sempre più difficile recuperare. Tra le novità del prossimo anno c'è anche l'adeguamento dell'organico con nuovo personale tecnico, le procedure di selezione saranno avviate già nel corso di quest'anno. E torniamo a parlare di incendi con la calura estiva, c'è anche l'attività del Corpo Forestale di Teramo che oggi con una squadra è stato impegnato nella campagna dello spegnimento di un incendio di sterbagli nella località Villa Pavone al ridosso della superstrada Terra Omare assieme al personale dei vigili del fuoco. Il rogo la cui natura dolosa è al vaglio degli investigatori del Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato e che ha avuto origine a bordo strada ha interessato un'area di circa 1.000 metri quadrati. Le operazioni di bonifica del sito sono terminate alle 14 circa. Nel contempo in località Villa Tofo, Bivio di Tizzano, nel comune di Torricella Sicura, è divampato un altro vasto incendio su cui è intervenuta la seconda pattuglia del Corpo Forestale dello Stato con l'ausilio di personale della protezione civile di Teramo e di Mosciano Sant'Angelo. Le fiamme hanno interessato un'area boscata di circa un ettaro e mezzo. L'incendio è stato domato anche se sono ancora in corso le operazioni di bonifica e dalle prime indagini non si esclude la matrice dolosa dell'incendio originatosi presumibilmente in un uliveto sottostante il bosco d'alto fusto che è andato a fuoco. E parliamo ancora di cronaca. Un insospettabile docente di un istituto tecnico superiore cittadino coltivava piante di marijuana sul balcone di casa. Succede a Teramo a scoprire l'insegnante coltivatore. Sono stati gli agenti della squadra mobile della questura di Teramo che da qualche giorno ne seguivano i movimenti. Il prof, 43 anni, aveva allestito sul balcone del suo appartamento una piccola serra con 10 piantine di marijuana e aveva anche tutto l'occorrente per concimarle, compreso un bilancino di precisione per misurarne poi il prodotto. Se l'è cavata con una segnalazione a piede libero alla magistratura che deciderà sul suo destino giudiziario. Le piantine sono state sequestrate e saranno distrutte. Sei dosi di cocaina e quattro di hashish assieme al bilancino di precisione per pesarle sono stati trovati dietro il bancone del suo bar. Per questo il 52enne titolare di un esercizio pubblico a Montorio è stato arrestato ieri sera dagli agenti della squadra mobile della questura di Teramo per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto riferisce la Polizia di Stato, l'esercente montoriesi all'interno del bar in più occasioni cedeva dosi di cocaina e hashish ai suoi clienti. Gli agenti della mobile diretta dal vicequestore aggiunto Gennaro Capasso hanno perquisito il locale e l'abitazione e hanno rinvenuto 50 grammi di hashish e 35 grammi di cocaina. Parte dello stupefacente, come detto, era nascosto dietro il bancone assieme ad un bilancino elettronico di precisione. L'uomo sono stati concessi gli arresti domiciliari. I carabinieri della stazione di Sant'Egida la Vibrata, diretti dal luogotenente Mario De Nicola, hanno notificato a un cinquantenne del posto la misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ad una distanza inferiore a 500 metri alla convivente 45enne. Sono provvedimenti firmati dal GIP del Tribunale di Teramo Domenico Canosa. L'uomo viene infatti contestato il reato di maltrattamenti in famiglia, una serie di violenze e vessazioni che la donna alla fine ha deciso di denunciare rivolgendosi ai militari della stazione. Il magistrato di turno Stefano Giovagnoni, all'esito di una serie di accertamenti svolti dai carabinieri, ha richiesto a GIP la misura cautelare. Adesso l'uomo non potrà comunicare con la convivente e mantenersi a debita distanza da lei. In questi giorni il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, si trova a Memminghe, una città tedesca gemellata con Teramo. Assieme a lui alcuni consiglieri comunali, Italo Ferrante e Pasquale Tiberi, tra questi che a proprie spese hanno accompagnato il sindaco che prenderà parte alle celebrazioni per il trentennale del gemellaggio. Il sindaco di Teramo nel pomeriggio di oggi è stato insegnito dell'onorificenza di cittadino onorario di Memminghe. La stessa cosa la città di Teramo l'attribuì a Ivo Holzinger che è il sindaco omologo di Memminghe. Ricordiamo che il sodalizio con la città bavarese fu sancito ufficialmente nel 1986 dall'allora sindaco Pietro D'Ignazio. Da domani entrerà in funzione la rotonda mobile di Piazza Garibaldi all'incrocio con Circo Valazione Ragusa e Ponte San Gabriele. Dopo la conclusione dei lavori di taglio del marciapiedi sul lato destro dell'incrocio, gli operai, sotto il coordinamento dei vigili urbani e dei tecnici dell'assessorato dei lavori pubblici stanno concludendo il disegno a terra della segnaletica orizzontale dello svincolo e il posizionamento dei New Jersey mobili che costituiranno il perno attorno a cui si svolgerà la viabilità locale. Saranno utilizzabili due corsie per la direzione Piazza Garibaldi-Ponte San Gabriele, una dedicata a chi deve svoltare verso la circonvalazione e soprattutto non sarà più possibile girare verso via dati a sinistra per chi percorre l'uscita da Piazza Garibaldi. Per procedere in questo senso bisognerà fare una sorta di inversione di marcia, tornare attorno alla rotonda e poi girare verso via dati. L'entrata in funzione della rotonda mobile, chiamata così perché al termine dei lavori di corso San Giorgio sarà eliminata, prelude alla chiusura di via Cerulli-Irelli. Chi percorre la circonvalazione non potrà più girare verso la strada del Genio Civile. Per raggiungere il corso sarà permesso solo per il traffico locale che dovrebbe essere facilitato al ritorno verso Piazza Marti e Libertà, forse con un'inversione di marcia di una delle parallele di via Quapuani e questo forse accadrà per via Nazario-Sauro. Si sono conclusi i lavori per la realizzazione di una nuova area ludica presso la frazione Pilone di Penna-Sant'Andrea. Nell'ambito degli interventi finanziati con i fondi FAS di riqualificazione e sistemazione di alcuni sentieri della riserva naturale Castel Cerreto, danneggiati a seguito degli episodi franosi risalenti a marzo 2015, è stata creata una nuova area di giochi proprio all'ingresso del parco, dotata di pavimentazione antitrauma e di attrezzature pensate per i più piccoli. Un nuovo intervento che servirà a rafforzare ulteriormente l'attrazione turistica della riserva. E c'è la notizia della presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica di Teramo da parte della Confartigianato che riguarda le deribere dei comuni di Alba Adriatica e di Martinsicuro sull'assegnazione dei mercatini estivi. La Confartigianato nell'esposto chiede di controllare se i comuni abbiano rispettato la legge regionale 135 del 99, se i partecipanti e mercatini hanno la partita IVA e se gli obbisti sono autorizzati e rispettano la normativa vigente. E' tutto pronto per la prima edizione di Valtordino in festa, l'evento ideato e organizzato da un gruppo spontaneo dei cittadini con il patrocinio del comune di Castellalto in programma domani e dopodomani dalle 16 in poi a Petriccione. Musica, laboratorio, attività, sport e tanto altro animeranno per due giorni la frazione, cominciando con il mini volley e il ping pong. E' ancora la scuola di scacchi, un angolo dedicato alla lettura, ma anche i giochi di una volta, come il tiro alla fune o la mosca cieca, quei passatempi tradizionali oggi meno frequenti, ma un tempo utilizzati per il tanto divertimento che con pochi mezzi sapevano assicurare. Lunedì alle 21, presso l'Idola Vela di Roseto, con l'organizzazione dell'Associazione Culturale Cerchi Concentrici Promotor, si terrà la presentazione del libro di Camilo Cerasi, Storia del calcio a Roseto, evento incluso nell'ambito delle manifestazioni libri d'estate. La pubblicazione è stata già illustrata quest'inverno a Palazzo del Mare, ma nell'occasione molte persone hanno chiesto la possibilità di ripresentare il testo che parla appunto della storia del calcio a Roseto. Parliamo adesso di sport, la Lega di Serie A, provveduto al sorteggio del tabellone della Team Cup. Il teramo di Mister Zaui esordirà nella competizione giocando domenica 31 luglio, con orario ancora da definire, al Moccagatta contro l'Alessandria nel primo turno ad eliminazione diretta. La squadra grigia nella scorsa Team Cup era stata eliminata, lo ricordiamo, in semifinale dal Milan. In caso di passaggio del turno ad attendere la vincente di questo confronto sarà il Perugia. Il match amichevole tra Delfino Pescara e Teramo in programma domenica 24 luglio alle 17 presso il campo sportivo Gli Angeli di Palena. La Media Sport Event informa che non ci sarà prevendita. Per i sostituitori biancorossi, pertanto, i biglietti per assistere all'incontro saranno disponibili direttamente presso l'impianto di Palena, nella tribuna loro assegnata con una capienza di 400 posti, al costo di 8 euro. Il ridotto di 4 euro, lo ricordiamo, è previsto soltanto per i ragazzi sotto i 12 anni di età. Con la presentazione al Sindaco di Giulianova presso la sede e la sala consigliare del Comune di Giulianova del progetto di rinascita del calcio giuliese, i presidenti Luciano Bartolini, Claudio D'Archivio e Bruno Franchi hanno illustrato le motivazioni che sono la base del nuovo progetto della Giulianova calcistica. Le tre società, ognuno nel proprio ruolo, hanno concordato un percorso sportivo comune per consentire un rilancio forte e qualificato delle attività giovanili. Fondamentale sarà l'approccio fattivo e collaborativo, oltre che delle realtà giuliesi, anche la concreta adesione al progetto di realtà calcistiche limitrofe. Il Real Giulianova, che militerà nel campionato di promozione abruzzese con la propria Juniores, sarà riferimento per le attività giovanili, mentre la società calcio Giulianova si occuperà esclusivamente di settore giovanile nelle categorie giovanissimi provinciali e regionali ed allievi provinciali e regionali. La società piccoli, giallorossi, infine si occuperà esclusivamente di scuola calcio, coinvolgendo i tanti ragazzi giuliesi e non che saranno avviati alle attività giovanili del calcio giocato. Chiudiamo con il basket, terzo colpo di mercato per il Campri, Nino Di Annunzio. Dopo gli arrivi di Salafia e Ponziani, a Darman Forte sotto canestro arriva l'esperta ala pivot classe 1982 di 2,02 cm. Simone Gatti, vecchia conoscenza dei tifosi farnesi, visto che proprio la scorsa stagione è stato avversario del campo di Colamaglia, della poderosa Montegranaro. Questo è tutto per questa edizione, vi ringrazio per averci seguito, vi auguro il più cordiale buonasera con i programmi di Teleponte. Grazie a tutti. Grazie a tutti.